Luigi Esposito, Carte virali e surreali. L'autore descrive il brano con le parole seguenti. Carte virali e surreali, per attore pianista, è una suite composta dal 18 al 28 giugno 2021, su testo tratto dai Madrigali Morbosi di Luigi Cerantola e formata da cinque brani. Un soffio d'improvviso gesto, curve di azioni pandemiche, zona rossa, gran tumulto, dei nostri affetti. Questi cinque brani rappresentano cinque scene indipendenti, ma interconnesse drammaturgicamente. Raccontano momenti di suoni, azioni, silenzi ed altro, scaturiti dalla forza evocatrice del testo di Cerantola. Messi su carta attraverso l'utilizzo di una scrittura che fa parte della pittografia musicale vorrebbero essere un monito, identificandosi come momento di riflessione anche contro ogni crudele abuso e malvagia inciviltà. Buon ascolto. Grazie. 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 Per spurghi e introiti a nuova consonanza. 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 Grido a voi brutalmente. Fermatemi o mortali. Gran tumulto! Per spurghi e introiti a nuova consonanza. E poserà in silenzio e in pace il gran tumulto! Per spurghi e introiti a nuova consonanza. Per spurghi e cuci e cuci per chi commenta. Mai respiti paure. In ogni dove, anche nei sedi liberi, in salvezze e guadianze. Gran tumulto! Per spurghi e introiti a nuova consonanza. 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 Per spurghi e introiti a nuova consonanza.